Nella mattinata odierna la Guardia di Finanza di Salerno ha donato alla Caritas Diocesana di Teggiano Policastro oltre 35 tonnellate di nocciolino da riscaldamento destinate alle persone bisognose della comunità. Parliamo di un carico significativo di ben 1420 confezioni da 25 kg ciascuna di nocciolino per impianti a biomassa, un materiale spesso utilizzato per il riscaldamento domestico ed ecologico. Questa donazione rappresenta un contributo essenziale per supportare famiglie in difficoltà, soprattutto con l'inverno alle porte. Le confezioni erano state sequestrate durante tre controlli delle fiamme gialle della tenenza di sala Consilina, condotti nell'ambito delle operazioni di tutela dei consumatori e di contrasto alle frodi commerciali. I prodotti sono stati ritirati dal mercato in quanto privi delle necessarie indicazioni in lingua italiana, una violazione delle norme previste dal Codice del Consumo. In circostanze normali, beni confiscati di questo tipo sarebbero destinate alla distruzione. Tuttavia, in questo caso, la Guardia di Finanza ha scelto di agire diversamente, proponendo di convertire il sequestro in un'opportunità di sostegno per chi vive situazioni di difficoltà economica. Per attuare questa donazione, la Guardia di Finanza ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione speciale dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Salerno. Quest'ultima ha risposto prontamente, permettendo così di ridestinare il materiale sequestrato in modo utile e solidale, trasformando un potenziale spreco in un aiuto concreto per le fasce più deboli. Durante la consegna, il responsabile della Caritas di Ocesana, Titeggiano Policastro, ha voluto esprimere parole di sincero apprezzamento per l'iniziativa, sottolineando l'importanza di gesti come questo per portare sollievo e supporto a chi si trova in situazioni di necessità. Ha evidenziato come questa donazione rappresenti molto più di un semplice supporto materiale e un atto di solidarietà che si traduce in calore, sia in senso pratico per il riscaldamento che in senso umano. L'intervento della Guardia di Finanza di Salerno dimostra così non solo un impegno costante nella lotta contro le irregolarità e le frodi commerciali, ma anche una grande attenzione verso la solidarietà sociale, rispondendo ai bisogni del territorio con un'iniziativa che unisce legalità e aiuto ai più fragili.